...concertistica della RAI, è un appuntamento da annotare. Comincerà lunedì nell'auditorium della RAI di Napoli il festival pianistico 87 organizzato dall'associazione Talberg e dalla stessa sede regionale RAI della Campania. Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato per la RAI i dirigenti Saini e Fiorentino, per l'associazione Talberg il presidente Farnioli e per l'orchestra Scarlatti che parteciperà ai primi quattro concerti il maestro Nunzio Zappulla. La manifestazione che prevede 16 concerti si svolgerà parte alla RAI e parte nell'auditorium della Fondazione Curci e sarà conclusa il 30 settembre. Essa si articola in tre sezioni, autonome ma complementari, i concerti per pianoforte orchestra, l'opera integrale per pianoforte di Sergei Rachmaninov, un ciclo di conferenze e concerto sulla storia del pianoforte. Il cronato a Napoli organizzato dall'associazione Talberg, dalla sede regionale della RAI con l'orchestra Scarlatti. Tre le sezioni del festival, concerti per pianoforte orchestra, otto conferenze, concerto con la partecipazione di 15 giovani pianisti di scuola napoletana. L'edizione del festival offrirà 18 appuntamenti, prestigioso incentivo culturale, conclusione il 30 settembre. I concerti per pianoforte orchestra sono ospitati nell'auditorium della sede RAI di Napoli in Viale Marconi. Giovedì appuntamento con Franco Caracciolo.